Sono persone che è forte, sono persone indipendenti, si chiamano, se non ho chiuso la carlotta, non si chiamano, 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 non si chiamano le carlotteghano角 che non avrebbero preso, io ho fatto la carlotta e druci Sì, no, no, sì, sicuro sì, ma lui è un gruppo, è un gruppo. Sì, no, no, sì, ma lui è un gruppo. Sì, 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 no.